Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Super Meat Boy Super Meat Boy Vuol dire Esaurimento totale Comunque ragazzi come vedete Nello scorso episodio siamo arrivati al Dear Hospital Ovvero la seconda parte E abbiamo completato 1 e 2 livelli Siamo arrivati a 3, si giusto? Ecco Uh No L'avevo quasi completato che coglione Inizia il nervoso No cavolo Devo calcolare bene la precisione di questi cazzi Che volano No Per quanto non ci sono riuscito Dai inizia il nervoso Nervoso Sono morto ancora Ma ci mi sento di buon umore Quindi dovrei riuscire a completare Un cazzo completo Allora ragazzi Con calma Le cose si fanno con calma Proprio con questa calma totale Possiamo riuscirci a valere Tu sei bravo Tu sei bravo Tu sei bravo Sei bravo Sei Sei riuscito Ok ragazzi Che cazzo è qui Ah qui si vola Che figo No No Non è più figo Allora Con calma Allora dobbiamo Mmm Vaffanculo Vaffanculo Due volte Allora Le cose qui si fanno con calma Questo lo so Però Il problema No Dai che possiamo farcela Ok ragazzi Mi sa che questo livello È un po' difficile Però noi facciamo le cose Con calma Vero 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 le facciamo con calma Allora Dobbiamo calcolare Calcolare un cazzo Se gioco Questo gioco Mi farà perdere la testa Allora Dobbiamo fare con calma Mmm Allora ragazzi Abbasso un attimo Il volume delle cuffie Che sento troppo alto Non riesco a regolare La mia voce Ora me ne sono a co Perdona Perdona Allora Prima cosa che dobbiamo fare È completare questa parte Perché è importante Completare questa cazzo di parte Allora Dai non Non dirmi che mi blocco più Perché sennò È una cacata Sto livello Allora Allora Vai Con calma Le cose si fanno con calma La vita è bella Ma madre Ma madre Ah ok Se corro Va più veloce Ora Allora Allora Dobbiamo correre E saltare Qui non c'è bisogno Qui come cazzo faccio Allora No è impossibile Qui dobbiamo fare con calma Per forza Faffanculo Gesù Ci sei tu Aiutami Tu Allora Io non riuscirò mai A completare Questo livello Cioè Rendete conto Sto perdendo Tempo In questo cazzo di livello Cristo Allora Allora Con calma Dobbiamo fare le cose Con calma Ok Poi cosa cazzo faccio Qui No raga È impossibile Non spiegatemi Come cazzo Faccio A completare Questo livello Deve forza Andare veloce Ah Ecco Come si faceva Non me L'abbiamo salvata Ora Siamo al Terzo livello Con Quale logica Ah ecco Ce l'ho io Ah Io dovrei fare Una cosa del genere Oh Cavolo Ho sbagliato Io devo Lanciarmi di là Quando arrivo Alla ventola Sbagliato Io Tasto Scusatemi Ragazzi E che cazzo Sto coso Di merda Che non sa Sa dove cazzo Sto andando Ok Ci sono riuscito In qualche modo Credo che Debo andare Per forza Su 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 Madre Ma Cosa cazzo Devo fare Andando lì Poi Che devo fare Ti odio Tua madre È brutta E scorbutica Ah ok Vai Ce l'ho fatta Ragazzi Questi livelli Sembrano Più facili Mi sono solo Impappinato In quel livello Ma va bene Mi interessa Quante volte Sono morto Allora Allora Questo è al quarto livello Dovrebbe essere Quattro livello Allora Sì ma che cazzo Ah Io che sono un idiota Che andavo di là Peppo Vaffanculo E dobbiamo correre No No Tomate no C'è una Bastarda Vai Che ce la posso fare Ma non posso andare Tagliando la strada Porco dio Scusatemi ragazzi Ma è nervoso Ok Ok Non morire Ti pareva che se mi spassavo Morivo Ok Sono morto di nuovo Questo livello è un po' Tutto questione di intelligence Ok Perché l'improvviso Ah giustamente Mi sono abituato Alla gravità Di questi Cosi qua Allora Mi basta che Saltiamo lì Ok Scendiamo qui Passiamo per questo Bugo del colo Qui andiamo piano Perché mi vedo morto Ok Ok ragazzi Siamo passati avanti Dobbiamo Dobbiamo stare in patte Allora passiamo avanti Questo è il prossimo Che cazzo è Non mi sono trovato Quei cosi dietro Allora Cosa devo fare qui Vaffanculo Vaffanculo Ti odio Ti odio Insomma Anche dove devo andare Passiamo di qua Sembra più facile Oh mio dio Stavo per morire Allora che Dobbiamo arrivare lì Perfetto Ci siamo riusciti Siamo passati A prossimo Livello Allora Che figo Questa cosa Non sembra facile Però Allora Scendi Ok Con calma Le cose si fanno Con calma Scusate Ho sbagliato io Ho sbagliato di nuovo Ok Qui sembra Facile Fino a qui Almeno Sembra facile Non so Dopo Cosa cazzo Ci sia Vaffanculo 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 Allora Passiamo avanti Con calma Senza morire E sono morto Ok Vaffanculo Allora Possiamo farcela Ragazzi Possiamo farcela un cazzo Dai però Questo gioco Non mi sta facendo Esaurire così tanto Solo nello scorso episodio Mi sono esaurito così tanto Che volevo Suscidare Però Poi ci ho pensato Soprote Ho una famiglia Da mandare avanti Con i 5 euro Che prendo al mese Su questo Su YouTube O almeno credo 5 euro al mese Non lo so Allora 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 Calma 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 No Perché mi ha fatto Quella Fatta di Merda Vaffanculo Forse dovevo Correre lì Oh Oh Non credo Che debba fare Questa Però mi scoccio Di fare le stesse No Perché Non ho saltato lì Il mio errore Ok Questo non è il mio errore Vaffanculo È difficile quella parte Oh Non lo sapevo Questa cosa Ragazzi È impossibile Quella parte Sono troppe Palle di sangue Se sono palle di sangue Non so cosa siano Ok E adesso Madonna Ce l'ho riuscito Madonna perché Ho capito come fare Allora Passiamo di qua Ok Poi Saliamo qui Le palle Sembri Le palle Io ho più di te Io ho più di te Che non salto Ok Dai Che posso faccela Dai Dai No Questo livello Mi manderà A buttarne il cervello In qualche modo Nell'altro Devo riuscire Non sembra molto Difficile E infatti What the fuck Sono morto Come cazzo Sono morto Da idiota Dai raga Ma avete visto Cosa ho fatto Una cagata assurda Ma dopo Anche qui Ho fatto una cagata Dai Ci possiamo riuscire Dai Che possiamo Farcela Farcela Insieme Perché corro Gesù Cristo Devo riuscirci Dai Possiamo farcela Come cazzo Ci sono Di qua Dove Non lo so Comunque Vaffanculo Culo Tua madre Il culo Di tua madre È grosso Quanto una macchina Allora Con calma Ok Fino anche ci siamo Sì Ci sono riuscito Oh mio dio Sto livello È andato in crisi Comunque ragazzi Ci fermiamo qui E ci vediamo Nel prossimo episodio Di Super Meat Boy Se questo episodio Vi è piaciuto Lasciate un mi piace O un commento E sotto la descrizione Traverete La pagina di Facebook E Twitch Se volete Iscrivetevi A entrambi Ovviamente Se volete Non vi costringo Ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti